Creiamo una semplice applicazione a linea di comando con php. Proviamo a ricercare un cliente all'interno di un archivio che creeremo. Intanto apriamo il terminale. Quando digitiamo php e poi facciamo ad esempio index.php stiamo dando un comando vogliamo eseguire l'eseguibile php. Se ad esempio diamo il comando ls e facciamo invio abbiamo l'elenco dei file e cartelle all'interno della cartella corrente. Però possiamo anche indicare delle opzioni. Ad esempio possiamo fare ls meno l e abbiamo un comportamento diverso per quanto riguarda il comando ls. Quando noi digitiamo php index.php stiamo dando un'informazione al comando php ovvero vogliamo eseguire lo script index.php. Questa informazione possiamo recuperarla all'interno dello script in questo modo. Facciamo una partdump di $argb. faccio invio e vediamo che $argb è un array con un elemento. La stringa index.php. Però se facciamo in questo modo facciamo php index.php e poi passiamo una stringa maestro php. Vediamo che adesso abbiamo un array con due elementi. Il primo elemento index.php e il secondo elemento la stringa maestro php. Questo vuol dire che in qualche modo possiamo passare dei valori in input allo script. Creiamo un archivio. Dato che ancora non abbiamo studiato i database simuliamo un archivio attraverso un array. Quindi definisco una variabile $clienti che sarà un array multidimensionale. Quindi ogni elemento dell'array $clienti sarà a sua volta un array. Quello interno inseriamo le informazioni sui clienti, sui nostri clienti. Ad esempio facciamo nome per quanto riguarda il primo elemento valore marco. Secondo elemento diamo chiave professione valore programmatore e facciamo terzo elemento telefono con valore 123. E poi creo un secondo elemento facciamo nome michela professione medico telefono 456. Per quanto riguarda gli array in php gli elementi sono separati da una virgola ad eccezione dell'ultimo elemento però anche se indichiamo la virgola come ultimo elemento dell'array non è un problema. quello che noi vogliamo fare apro il terminale e digitare php index.php e poi vogliamo indicare il nome del cliente che vogliamo ricercare. Ad esempio facciamo marco, eseguiamo lo script e in base a questa informazione che otteniamo grazie all'array $argv andremo a ricercare un cliente con nome marco. La prima cosa che ci andiamo ad accertare è che effettivamente sia presente una informazione dopo lo script, dopo l'indicazione dello script. Quindi facciamo un if. Se non è presente quindi facciamo if not iset $argv di 1 dato che a questo diciamo elemento è associato l'indice 0 e a questo elemento l'indice 1, facciamo if not iset $argv 1, facciamo un eco, indica chi cercare in archivio. E poi facciamo anche exit perché vogliamo terminare lo script dato che non c'è stato indicato il cliente da ricercare. Proviamo. Facciamo soltanto php index.php ed abbiamo correttamente che indica chi cercare in archivio. Se superiamo questo if, quindi il codice viene eseguito dopo l'if, vuol dire che è stato indicato un nome, un nome da ricercare. Quello che facciamo è semplicemente un for each su questa array. For each $clienti as $cliente. Prima del for each però definiamo una variabile $cliente ricercato a cui assegniamo $argv di 1. Ora dobbiamo semplicemente controllare se il cliente ricercato è all'interno di uno di queste array e quindi facciamo un if. Utilizziamo la funzione in array. If in array $cliente ricercato. Passiamo come primo argomento e come secondo argomento passiamo l'array $cliente. Vuol dire che il cliente è presente e quindi facciamo un eco. Cliente, due punti. Vogliamo trasformare l'array in stringa, ovvero se ad esempio è stato ricercato il cliente Marco all'interno del for each $cliente sarà questa array. Vogliamo semplicemente mostrare i valori. Quindi Marco, programmatore, 123. Per farlo utilizziamo la funzione implode. La funzione implode trasforma un array in stringa. Passiamo come primo argomento il separatore. All'interno della stringa facciamo lo spazio e come secondo argomento l'array $cliente. e poi facciamo exit. Dato che facciamo exit se il cliente è stato trovato vuol dire che lo script termina. Se lo script non termina vuol dire che il cliente non è stato trovato e quindi dopo il for each facciamo un eco. Cliente non trovato. Vediamo se tutto funziona. Eseguo lo script php index.php e come cliente da ricercare indico ad esempio Miriam. Ed abbiamo correttamente cliente non trovato. Abbiamo due clienti. Un cliente con nome Marco e un cliente con nome Michela. Proviamo con Marco. Ed abbiamo correttamente cliente Marco programmatore 123. Però questo script fa abbastanza acqua da tutte le parti perché se ad esempio abbiamo due clienti con nome Marco lo script si fermerebbe al primo cliente con nome Marco trovato. Definiamo un altro elemento con nome Marco. Cambiamo professione facciamo avvocato telefono 789. Invece di fare l'eco direttamente qui e fare exit quello che facciamo è e definire una variabile dollar risultato che inizializzo con una stringa vuota. Invece di fare l'eco in questo punto concateno la stringa alla variabile. Ora come facciamo a sapere se è stato trovato un cliente o meno? Se non è stato trovato alcun cliente abbiamo questa variabile che sarà una stringa vuota altrimenti sarà una stringa con del contenuto quindi ci basterà fare un if. If dollaro risultato è uguale alla stringa vuota facciamo l'eco. Nessun cliente trovato altrimenti facciamo l'eco della variabile dollaro risultato. Vediamo se tutto funziona correttamente. ricerchiamo il cliente Marco, faccio invio ed abbiamo correttamente cliente Marco programmatore 123 per quanto riguarda il telefono e poi abbiamo cliente Marco avvocato 789.